Io e Mirko abbiamo regalato un soggiorno nuovo ai suoi genitori Poi abbiamo fatto le miniature rigorosamente con le musiche arabe di sottofondo Dopo ho fatto un giro nella mia gioielleria di fiducia per vedere cose che Mirko non mi comprerà mai A pranzo abbiamo mangiato pasta col tonno da accompagnare rigorosamente con i griffin come gli inglesi Nel pomeriggio abbiamo ripreso a fare le miniature questa volta con Madame Mirko voleva un frullato fragole e banana ma non l'ha finito perché lo trovava acido Un altro dei suoi problemi da aggiungere alla lista A cena ho mangiato un po' che con le mie amiche sperando che Mirko e il cane nel frattempo non mi disturbi Grazie